Ci siamo entusiasmati nel decantare e nel presentarvi tre navi, un tris croceristico nelle acque sorrentine e siamo corsi giù al porto per raccogliere e mietere una amara delusione. Il moletto croceristico con la scritta Welcome Sorrento è interdetto alla navigazione. C'è il paperino con il suo piloto che deve essere un marinaio non tanto abile che sta cercando di approcciare alla banchina, ma la banchina è già piena di noi otto di quelli là che vanno a Capri e caricano la gente, quindi è un super traffico. Ecco, adesso esce la barca da otto metri con i suoi passeggeri in direzione Capri e accosta il paperino e questo sarà per tutta la giornata. Con tre navi in rada, il moletto che non funziona è una di quelle discrepanze che non avremmo mai voluto vedere, mai voluto raccontarvi. Ragina, gira lì.